ah io ho già fatto pronto e ok adesso si gioca ragazzi sempre loro si passando soli è l'allenamento ecco adesso adesso no un turente ha un turente tornato tra l'altro a shot e down questo significa questo significa davvero che effettivamente rocket league non ci sta giocando più nessuno nessuno perché ci sono sempre gli stessi di prima un turente cioè è perché abbiamo fatto pronto abbiamo fatto la la rivincita tipo ma la rivincita che abbiamo vinto magari la volevano loro è ancora niente loro hanno questa questa tecnica tra l'altro tra l'altro che questo funziona scuso ma sì però sono i migliori difensori della nostra porta vorrei dire perché voi non stiamo facendo assolutamente niente loro non so che non è clamorosa ma già c'è ma scusami è il loro gioco è portarci via la portarci via la palla però senza combinare nulla voglio fare quel giochetto capito l'ho fatto non capisco non capisco il gioco di questi qua devo essere sincero non ci arrivo l'hanno quasi fatta e se la sono tolta da soli di nuovo ma sono di genio ma è fatto una parata ragazzi è stato tu eh sì ah è grandissimo mi ha dato parata mi ha dato c'è una faida tra questi due perché io continuo a non capire perché loro stiano facendo esattamente così dall'inizio della partita da due partite a questa parte ma scusami e adesso di nuovo adesso di nuovo ma non importa io io sto in fondo al cazzo quello che dice le partite tipo la telecronaca eccolo eccolo guarda le play guardalo guarda guarda che replay guarda che roba carambola guarda che roba mamma mia che certo ma proprio centrale più centrale di così non poter caspita anche scritto del tiro tre volte e poi caspita devo dire che questo gioco è veramente bella bella dai dai no 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 è veramente incomprensibile questo gioco da sobri devi dubire ma perché dovete rompere le scatole così io non ci voglio più giocare a questi stronzi eh lo dico ah ma adesso stai giocando tu Rocco si sto giocando io ma pensa che è peggiorata la situazione rispetto a prima prima due gole guarda guardi ancora ancora quindi non c'è io non l'ho capito stanno facendo questi qua non lo so continuano a fare così che non serve a niente fondamentalmente ma non è che sono dei bot che sono sono baggati ma per forza guarda cosa stanno facendo stanno facendo sempre la stessa cosa e porca di una miseria non penso è che sia un bot che ne so una risposta magari stai facendo a botte no stai facendo a botte a botte dai 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 che palle è a bottiglia a bottiglia stai almeno una volta con me facevamo almeno come ne facevamo ma io sono io a palla mortacci vostri buono e infatti di nuovo è un pochino esplodo ma solo un pochino guarda che roba voi c'hanno un controllo della madonna se le stanno a fare sempre sta c'è stima inutile nel senso si però inutile nel senso non non gli serve a nulla questo controllo no che non gli serve dai Enrico che te l'ho passata ma sembra che sembra che stiano facendo apposta a non segnare capito eccolo di nuovo se almeno come i punti li abbiamo fatti vabbè e se ce lo fanno è tanto ma non è un numero di rosa mostrano gizzi segnalo fa torta cazzozza cd dai 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 ragazzi dopo dentro e non di nuovo la cura mandano perché c'è l'altro che anche aspetto di lavoro che non si risposta che lo fanno apposta è ovvio che hanno un attacco ma è una tattica ma è una tattica inutile non serve a niente perché c'è uno che aspetta sempre al centro esatto sì ma non serve a nulla utente abbondano turenta hanno abbandonato la partita finalmente stonzi ce l'hanno fatta è stata la cosa più noiosa si sono allevati ora posso giocare io sì va a cantare grazie a tutti